Spettatore interessato a questo derby di San Valentino, anche se è una data che magari ispirava altre cose, Massimo Mariotti, quindi per aggiornamento professionale, è stato qui gradito ospite al Pala Ferrarin. Un suo giudizio su questo derby parecchio acceso con un 4 a 4? Diciamo che alla fine è stata una partita da due volti. Forse il primo tempo, non forse, il Breganze meritava qualcosa di più, ha giocato sicuramente meglio, infatti è andato a vantaggio, ha trovato per due volte il doppio vantaggio e forse lì non è riuscita a chiudere definitivamente la partita. Mentre nel secondo tempo il Trissene è venuto fuori, specialmente nella parte finale, con l'ingresso anche di Faccini e Greco, hanno posto un ritmo abbastanza importante e alla fine hanno anche trovato il pareggio, credo alla fine anche con merito. Sono due ottime squadre, il Breganze credo, a parte una piccola flessione ora, sta facendo comunque un ottimo campionato, ha veleggiato spesso con le prime della classe, le favorite di questo campionato, che sono Forte dei Marmi, Viareggio e Lodi, sta facendo un ottimo campionato e anche il Trissino nelle ultime partite ha ottenuto dei buoni risultati. Come valuti questa stagione dal punto di vista generale e anche in prospettiva con l'appuntamento di questa estate che è storico per le discipline rotellistiche, i roller games di Nanchino? Il campionato per ora si sta un pochino sgranando, ha avuto una fase dove c'erano molti equilibri, bisogna vedere se questi equilibri sono verso l'alto o leggermente alcune squadre non avevano ancora carburato bene, mi riferisco in particolar modo, hanno avuto degli altri albassi, il Forte dei Marmi, dei passaggi a vuoto, il Lodi e il Viareggio che a mio avviso ha una rosa che tranquillamente compete con le altre due, quindi queste tre squadre hanno comunque un quid in più rispetto a tutte le altre del campionato. Il resto, come ho detto prima, Breganza sta disputando una buona stagione come Follonica e le altre, tipo il Bassano, si sta riprendendo da un periodo iniziale abbastanza negativo. Per quanto riguarda le nazionali, ora a Pasqua ci sarà il torneo di Montreux, valuterò con chi andare e poi quest'anno c'è un appuntamento storico per il rotellismo mondiale, ci sono i roller games a Nanchino in Cina dove raggrupperanno tutte le discipline degli sport di rotellismo, quindi è una mini olimpiade e noi come hockey andremo con la nazionale femminile, la nazionale under 20 che partiranno prima perché queste due nazioni giocano dal 26 di agosto mi sembra al primo di settembre e poi successivamente ci sarà il mondiale senior dove noi raggiungeremo appunto la Cina, partiremo il 31 di agosto. L'obiettivo è quello di cercare di far bene in tutte le nazionali, chiaramente la femminile abbiamo un movimento che ancora è abbastanza ristretto e quindi non facendo un campionato regolare è anche difficile avere dei valori importanti. Mentre la 20 e la Senio veniamo da due secondi posti all'europeo, ultimo, l'Italia credo che negli ultimi quattro anni è tornata in tutte le nazionali a competere, non dico per forza che andiamo a vincere, però a competere. Cercheremo di arrivare in semifinale, questo è l'obiettivo importante per la Senio. Con la 20 è la stessa squadra che nel gruppo della 17 nel 2014 ha vinto l'europeo, però oggi tutto si è molto livellato e quindi fare delle previsioni è difficile. Noi quello che cerchiamo di fare è di essere competitivi come abbiamo fatto negli ultimi campionati e poi chiaramente uno non parte mai per fare una passeggia di salute ma parte con l'obiettivo di fare il meglio possibile che è quello possibilmente di vincere. Perfetto, grazie. Allora in bocca al lupo, Mr. Mariotti, buon lavoro, buona stagione.